La domanda che tutti si fanno sempre è quanto si può guadagnare nel trading sul forex? Buongiorno a tutti qui Arduino Schenato da Airforex.com e devo dire che questa domanda è praticamente un qualcosa di costante che negli anni ho sempre sentito un pochino da tutti allora voglio intanto sfatare il fatto che non si può guadagnare con il trading si può guadagnare con il trading quanto si può guadagnare con il trading? e quando mi viene chiesta questa domanda ovviamente la risposta non può essere univoca, è una sola perché ci sono due cose principali di cui oggi vi parlo che fanno sì che magari si possa avere più qualche spunto per una risposta che sia coerente quanto posso guadagnare con il trading? infatti necessita due cose principali da tenere a mente una è con quanti soldi faccio trading e due quanta esperienza ho partiamo dalla prima allora è ovvio, è normale soprattutto se qualcuno di voi ha già fatto trading e qui bene o male seguite tutto il canale perché ormai fate trading chi dà più tempo, chi dà meno tempo ma comunque il trading lo conoscete ecco, io quello che voglio dire è che probabilmente sapete che se io faccio trading con un conto da 1000 euro a livello percentuale posso rischiare lo stesso e guadagnare lo stesso che con un conto da 100.000 ma a livello proprio economico sarà diverso quindi se io trado con 1000 euro nel conto, 2000 euro nel conto per i rischi che prendo e che saranno comunque in percentuale per esempio un 1% del mio capitale per la singola operazione è ovvio che anche se ho comunque dei buoni rendimenti rispetto al rischio preso quindi a livello percentuale sto facendo un'ottima performance percentualmente sul conto a livello economico è sempre più piccolina perché si parte da un capitale minore se io invece ho un capitale già di 5.000 rispetto a 1000 è diverso se ne ho 10.000 sarà ancora diverso se ne avrò 30.000, 50.000, 100.000 sarà ancora diverso quindi quanto si può guadagnare con il trading? la mia risposta è quanti soldi hai da investire nella tua azienda di trading? però non è solo e l'unico punto questo ma l'altro punto principale che va a braccetto con questo per capire quanto una persona può guadagnare c'è anche l'esperienza e l'esperienza non fatta nel senso che ah sì faccio trading da 20 anni poi magari sei ancora lì che perdi perché non hai mai avuto un metodo hai continuato a switchare qua e là e alla fine non hai mai portato a casa neanche il pagamento di una bolletta della luce con il trading no, io sto parlando di esperienza sul campo facendo sempre quella metodologia cioè cercando di formarsi su una operatività di un certo tipo che abbia un senso e una logica e che soprattutto sia diventata ormai una routine quindi se c'è una certa esperienza e non sto parlando di qualche mese sto parlando di più di qualche anno più di qualche anno di esperienza nei mercati con lo stesso metodo approccio quindi migliorando quel tipo di schema allora diventa sicuramente anche qui la risposta diventa anche qui diversa e può essere più chiara quindi se io ho molto capitale subito da mettere nel conto di trading ho subito 100.000 euro da mettere nel conto di trading ma non ho l'esperienza difficilmente riuscirò a guadagnare se io non ho soldi ho 1000 euro da mettere sul conto di trading e ho tantissima esperienza posso sicuramente guadagnare ma a livello economico ci metterò molto di più a crearmi una rendita o comunque un guadagno dal trading che sia percepibile come un guadagno che mi può permettere anche di prelevare e magari fare quello che devo fare nella mia vita normale quindi queste sono le due cose che quando mi chiedete e io vi rispondo sempre dovete guardare quanti soldi avete e che esperienza avete quanto si può guadagnare? ovviamente si può perdere tutto e guadagnare tanti soldi si può perdere poco e guadagnare poco si può fare tanto nel trading però prima di tutto cercate sempre di capire dove siete e che cosa avete e che cosa potrete avere perché comunque non è perché adesso ho solo 1000 euro da mettere nel conto che tra tre anni non ne posso avere di più quindi abbiate la calma necessaria formatevi cercate di capire quello che fate non abbiate la fretta di guadagnare alzando la leva e il rischio e questo non va bene oppure bruciando le tappe perché dopo un anno vi sentite dopo due anni dei trader esperti non lo siete siete ancora all'asilo quindi camminate con calma testa bassa e vedrete che i risultati possono arrivare bene io per oggi ho finito anche questa pillola vi saluto vi auguro un buon trading simple però prima di lasciarvi vi chiedo di lasciare un bel like al video e di sottoscrivere come dire l'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto un saluto a tutti buon trading simple a presto ciao